Ben trovati da Arpal con le previsioni del tempo per la Liguria. La giornata è caratterizzata ancora dall'allerta meteo gialla per temporali fino alle 15 su Levante, la zona C fino alle 17 sulle zone B, D ed E, settore centrale e versanti padani. Dunque ancora instabilita sulla nostra regione un miglioramento si avrà dalla giornata di giovedì. Scendiamo nel dettaglio. Oggi martedì 27 luglio piogge e temporali sparsi sui settori di centro ponente localmente di forte intensità, altrove nubi irregolari anche compatte con possibili isolati temporali soleggiato sulle coste dell'Imperiese, venti deboli o moderati meridionali, mare mosso, temperature massime in leggera diminuzione lungo la costa tra 27 e 30 gradi, nelle zone interne tra 25 e 29 gradi. Domani mercoledì 28 luglio nubi irregolari più compatte al mattino nelle ore centrali, possibili rovesci elevanti al mattino sui rilievi e i versanti padani nel pomeriggio, ampi rasserenamenti in serata. Venti meridionali fino al pomeriggio, tendente a disporsi da nord in serata, mare mosso il mattino in calo a poco mosso, temperature minime in lieve calo lungo la costa intorno 22 e 23 gradi, nelle zone interne tra 15 e 19 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 27 e 29 gradi, nelle zone interne tra 27 e 31 gradi. Dopodomani giovedì 29 luglio, miglioramento grazie all'ingresso di correnti temporaneamente più asciutte a tutte le quote, ne conseguono condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso, venti deboli settentrionali al mattino, brezze pomeridiane, mare poco mosso, temperature in aumento, le minime lungo la costa intorno a 23 e 24 gradi, nelle zone interne tra 17 e 20 gradi, le massime lungo la costa tra 28 e 30 gradi, nelle zone interne tra 29 e 31 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!